Buongiorno, siamo in collegamento con Stefano Delrico, segretario nazionale di Unicobas. Unicobas insieme con l'Unione Sindacale di Base e con Cobas Sardegna ha organizzato lunedì 21 giugno una manifestazione nazionale, anzi più e precisamente un presidio come adesso ci spiegherà anche Del Ricco a Roma per protestare sostanzialmente su due questioni. Intanto sul tema del decreto sostegni bis che come sappiamo è in discussione proprio in questi giorni presso la Commissione Bilancio della Camera, ma poi c'è anche il tema più generale delle risorse che il PNRR stanzia prevede per la scuola. Allora vediamo in che cosa consiste la loro protesta e vediamo in particolare poi che cosa loro chiedono, che cosa vogliono i sindacati di base. Incominciamo dal tema del sostegno bis che parla come sappiamo di assunzioni e concorsi prevalentemente. Perché a voi questo decreto non piace? Perché le assunzioni sono sufficienti e perché non risolve assolutamente il problema del precariato. Per risolvere il problema del precariato, punto primo, occorrerebbe una legge strutturale e quindi occorrerebbe un doppio canale di assunzione che riservi il 50% ai precari, valutandone tutti gli anni di servizio con 12 punti l'uno e valutandone con analogo punteggio anche le abilitazioni già avute, i concorsi sostenuti come titoli culturali. Di modo che si risolva finalmente intanto l'aspettativa di lavoro del personale precario che avrebbe così la certezza di venire assunto maturando questi punteggi, si elimini la lotta fratricida, fra i precari, assumete solamente quelli che hanno lavorato, che so io, negli ultimi tre anni, non negli ultimi quattro, oppure che hanno lavorato da sei a tre anni fa, cose del genere. Prendete solo quelli col servizio, prendete, ovviamente vanno tenuti in conto anche quelli per esempio che stanno nelle graduatorie dei concorsi fatti, invece di fare concorsi continuamente e soprattutto chi ha già sostenuto un concorso non dovrebbe sostenerne altri, non dovrebbe neanche tanto meno rifare percorsi abilitanti come le SIS e TFA. Senti Derrico, quindi da quanto io capisco questo dibattito che è aperto in questo momento fra le forze politiche e quindi va bene, assumiamo anche quelli di seconda fascia purché abbiano X anni, assumiamo gli specializzati anche se non hanno i tre anni di sostegno, soprattutto questo dibattito da quanto capisco a voi appassiona poco. No, sulla questione degli specializzati o gli specializzandi di sostegno siamo assolutamente d'accordo, vanno assunti anche perché è assurdo che il 50% dei posti del sostegno, una cosa così delicata, continua ad essere data a personale non specializzato. Per quanto riguarda la questione convergere solo sulla questione degli anni di servizio non ci sembra giusto, ci sembra giusto valutare sia gli anni di servizio che i titoli culturali e ad ognuno il suo, chi ha fatto più servizio ma ha anche superato concorsi eccetera, entri nel doppio canale col punteggio che rispetta in base agli anni, in base ai titoli culturali. Cioè va rivisto il dibattito, il ribattito deve essere finalizzato ad una soluzione strutturale, questo è il punto. C'è un tema di fondo però ed è questo, l'Italia è anche fatta in modo tale per cui succede che nelle regioni del nord abbiamo molti posti vacanti, molti posti liberi e pochi precari e nelle regioni del sud abbiamo invece moltissimi precari e pochi posti liberi in proporzione. Come se ne esce da questa contraddizione? Questo attiene un altro problema annoso dell'Italia. Siccome il personale docente è pagato malissimo, siamo i peggiori tribuiti dell'Unione Europea e là ce l'ha detto persino il Ministro però senza poi alla fine proporre nulla di serio, succede che il lavoro docente non è attraente al nord e succede che siamo di fronte alle migrazioni dal sud perché nel sud c'è una fame di lavoro più alta che al nord mentre al nord si sfugge al lavoro di cattedra. Poi c'è anche l'altro problema, il problema che per esempio il famoso tempo pieno al sud non è mai partito in modo adeguato, c'è il problema delle pessime condizioni generali dell'edilizia scolastica che sono ancora più gravi nel meridione e ci sono diecimila questioni strutturali che hanno portato alla lunga questa condizione che tu richiamavi. non a caso voi proprio a proposito delle risorse che stanno dentro il PNRR voi rivendicate che il piano preveda un intervento a 360 gradi sulla scuola, quindi un piano che vada dalla edilizia scolastica fino al miglioramento delle condizioni economiche degli insegnanti. È così? Anche per questo siete scesi in piazza il 21? Precisamente, il recovery fund potrebbe finalmente essere l'occasione per investire seriamente sulla scuola come peraltro sulla sanità. Per questo noi diciamo che, e non lo diciamo solo noi, la cifra che noi diamo è una cifra calcolata da varie commissioni negli anni che bisogna fare un piano pluriannale ma veloce massima quinquennale di investimenti per riportare a norma le strutture edilizie. Servono 13 miliardi, c'è poco da fare. O li investiamo adesso oppure questo piano non lo faremo mai perché adesso abbiamo 230 miliardi di recovery fund, non l'avremo più, più avanti. Poi questo si incrocia anche con la necessità di strutturare le scuole anche a fronte dell'emergenza pandemica che ancora non è risolta, quindi per esempio ci vorrebbero 500 milioni come è stato, come è disposto in Germania per sanificare l'aria. Ricordo che le scuole italiane a nord sono rimaste con le finestre aperte a 8.0. Serve acquistare per esempio le lampade che eliminano il virus, ci sono, sono peraltro fabbricate in Italia. Serve intervenire sull'edilizia e andare a prendere anche gli spazi che sono in disuso, che sono dismessi e che sono dello Stato, degli enti locali, eccetera, eccetera, serve intervenire sui trasporti. Per esempio la Germania ha un trasporto dedicato per gli alunni e gli studenti. Bene, questo per quanto riguarda l'edilizia, però voi dite che il PNRR deve servire anche per migliorare le condizioni economiche e anche per incrementare gli organici. Di preciso cosa proponete? Servono 7 milioni, 7 miliardi scusate, subito per incrementare le assunzioni. Procedere a 15 il numero di alunni per classe per avere gli insegnanti a disposizione e possibilmente, come succede sempre a dicembre e gennaio, ma dal primo di settembre, per avere la possibilità di incrementare i progetti di individualizzazione. 7 miliardi per le assunzioni ed altri 7 miliardi vanno, a nostro avviso, subito per il contratto. Per il contratto 7 miliardi perché l'anno prossimo noi si abbia un aumento decente, minimamente decente, perché non stiamo parlando di grandi cifre con 7 miliardi. Stiamo parlando di cominciare ad investire seriamente fino a che non si arrivi alla media retributiva europea. Per esempio fino a che non si raggiunga la Spagna. Per raggiungere la Spagna servono 1000 euro per i docenti, netti in più. Servirebbero almeno 400 netti per il personale ATA, netti, che vuol dire che a questi 7 miliardi ne vanno aggiunti altri. Cioè va fatto un contratto di prospettiva che ci porti nel giro di tot anni a raggiungere la media retributiva europea. Senti Derrico, ma voi Unicobas parlate molto spesso, in termini molto negativi, del decreto legislativo 29 del 1993. Ma che cosa c'era in questo decreto che a voi proprio non piace? Perché voi siete ancora oggi a distanza di quasi 30 anni contro quel decreto? Ce lo vuoi spiegare in poche parole? Perché quel decreto è la base dell'impoverimento della nostra categoria, perché non consente aumenti superiori all'infrazione programmata, che sarà poi programmata sempre sotto l'infrazione reale, e che quindi ha allargato la forbice, la distanza dei docenti italiani, degli ATA italiani, dalla media retributiva europea, perché ha eliminato il ruolo, che era uno scudo a garanzia dell'autonomia professionale nella scuola, e perché ha eliminato anche gli scatti dell'anzianità, che erano biennali, sono stati trasformati nei famosi gradoni, che poi ci vengono dati una volta, un'altra ci vengono tolte, in realtà poi vengono presi a detrimento del fondo d'istituto, quindi ci tolgono i soldi da una parte per metterceli dall'altra, è una presa in giro. Devo dire che questo decreto 29 del governo Amato è stato molto apprezzato invece da CGL, CISW e via dicendo, e non viene mai menzionato da loro, che pur dicono sì, siamo i peggiori distribuiti in Europa, l'ha detto anche il ministro, d'accordo, ma perché lo siamo diventati? Quindi bisogna uscire la DL 2993 che mette insieme gli insegnanti, gli impiegati del catastro e che, come dire, non può essere adottato per la scuola. Grazie. Senti, chiudiamo con una battuta sulla manifestazione del 21. Qual è il tuo giudizio su questa manifestazione? Come è andata? Qual è stata la partecipazione? Che cosa avete percepito in questa giornata insieme con USB e con Cobas Sardegna? Questo presidio è stato affiancato anche da altre iniziative, per esempio di Cobas Sardegna a Cagliari e in altre parti d'Italia. Serviva per riportare l'attenzione nel momento in cui si tratta di soldi con il famoso sostegno IBIS, ma relativamente a tutto il recovery fund, sulla scuola. Io sono 30 anni che manifesto davanti a Montecitorio, abbiamo avuto una sorpresa sinceramente molto sgradevole. Come siamo arrivati, sono cominciate, come abbiamo cominciato, ad essere bombardati da questioni capziose da parte della questura di Roma, di delegato del questore presente, eccetera. Allora, ma non c'è il promotore. Come non c'è il promotore? Il promotore c'era, stava al bar, è tornato, è quasi come se fossimo andati lì, non so, un gruppo di boy scout che non sa neanche come si chiede una manifestazione. Una volta che abbiamo risolto, come dire, la questione facendo semplicemente vedere la firma del promotore e mettendo in relazione con la sua presenza in piazza, sono cominciate altre cose, mai viste prima. Allora dovete togliere, prima ce l'hanno fatti mettere, poi dice dovete togliere i striscioni perché sono retti dai bastoni, ma scusate, lo striscione col vento se non è retto da qualcosa che lo sostiene in modo adeguato non può reggere. Peraltro erano questi bastoni che leggevano un paio di striscioni legati con lo scotch in modo molto stretto alle transenne, quindi non potrebbero mai essere stati, non avrebbero mai potuto essere usati in un modo diverso dal sostenere degli striscioni, cosa alla quale erano necessariamente deputati. Senti, al di là di tutto questo, comunque il vostro giudizio politico su come si sta muovendo il popolo della scuola qual è? Cioè vi sembra che ci sia, come dire, desiderio di mobilitazione oppure stiamo attraversando un po' una fase di stasi, quindi come prevedi che potrà essere il prossimo autunno? Sarà un autunno caldo, tiepido o freddo? Ma credo che sarà almeno sicuramente più caldo degli altri. Lo dico perché, primo punto, il nostro sciopero di maggio è andato bene rispetto alla media, diciamo, dell'adesione molto bassa degli scioperi nella scuola degli ultimi anni. Abbiamo fatto il doppio, se non il triplo, di quello che hanno fatto CGL, CISB, Will, SNAS, Gilda, non mi ricordo se c'era anche l'ANIEF, l'8 di giugno del 2020. E quelli sarebbero i sinagati maggiormente rappresentativi assai. Ma poi, soprattutto, nell'ultima fase abbiamo visto respingere al mittente la famosa, e questo non solo dai docenti, ma anche da molti dirigenti, la famosa scuola, come dire, il famoso piano estate. Perché se andiamo a vedere, su 8.400 scuole sono solo 6.000 quelle che hanno aderito e molte di queste hanno aderito per spostandoli, prendendo gli stanziamenti, ma spostandoli sul mese di settembre. Cioè, d'estate, le scuole aperte, con, come dire, gli interventi teatrali, eccetera, eccetera, saranno pochi. Saranno pochi, nonostante il battagio pubblicitario, nonostante gli investimenti messi lì dal Ministero. Bene, grazie a Stefano Delrico per questa conversazione, e buon lavoro e buona estate. Buona estate anche a voi, e grazie come sempre alla tecnica della scuola, alla sensibilità politica, sindacale e specifica relativa alla qualità della scuola che avete sempre avuto. Grazie a tutti.